Porte e finestre scorrevoli blindate. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Porte e finestre scorrevoli, anch'esse come tutte le altre tipologie di finestre, possono essere fatte blindate. Essere fatte blindate vuol dire che avranno delle ferramente, dei profili, dei vetri e delle maniglie che sono riuscite a superare una prova antifrazione. Le classi antifrazione, se segui un po' il blog, ormai lo sai, vanno dalla 0 alla 6 e nello scorrevole puoi trovare in commercio delle aperture certificate in classe 2 e in classe 3. Difficilmente troverai già la classe 4 perché nello scorrevole, proprio per come è fatta la tipologia di apertura, è un po' più difficile ottenere una sicurezza elevata. Però in un'abitazione in una zona residenziale, già in classe 2, è una bella sicurezza che è più del 95% delle case che ci sono nelle altre abitazioni, insomma, delle altre case. Abbinato a un buon sistema d'allarme, a una buona progettazione, a un buon uso della casa, ti può dare degli ottimi risultati. Poi lo puoi realizzare in alluminio, in legno, in pvc, in acciaio. Con l'acciaio avrai la soluzione che ti permetterà di avere la massima sicurezza possibile perché l'acciaio è molto molto resistente. Se vuoi avere dei consigli sul tipo di apertura che è meglio adottare per casa tua, sulla scelta dei vetri, sulla posione opera, ti puoi valere del servizio di consulenza che puoi trovare su www.blogbisacchi.it dove aiuto tutte quelle persone che non servono direttamente con la Bisacchi. Così non c'è nessuna possibilità di conflitto di interesse, ti posso aiutare a trovare la soluzione migliore o analizzare i preventivi che ti sei fatto fare, quali vanno bene, quali no e quali magari vanno integrati con altre cose da chiedere a livello di prodotto, di posione opera o di garanzia. Vuoi saperne di più? Vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!